Trocazzano, il campionato regionale Lombardo di Dressage, è quasi finito tutto, siamo però con Beatrice Arturi, lei ha la medaglia d'oro dei junior di quest'anno. Com'è stato questo campionato per te? Per me questo campionato è stato molto importante, soprattutto perché questo cavallo qui è da due settimane che ce l'ho e siamo riusciti comunque a organizzare tutto in tempo e sono molto felice di questo. Un cavallo ho trovato per tanto tempo cercato oppure hai trovato per caso perché te l'hanno proposto? Allora io il cavallo diciamo ne avevo già uno che avevo già fatto gli europei così però diciamo non avevo mai avuto, cioè non stavo cercando un cavallo ma lo stavo cercando ma non lo stavo cercando perché comunque mi sarebbe interessato trovarne uno nuovo però poi abbiamo trovato questo cavallo qui e quindi ci è subito piaciuto e l'abbiamo subito preso. Le Bon com'è? Le Bon è un super cavallo perché non è proprio così facile però è facile diciamo capirlo, ha dei movimenti veramente belli e sono veramente speciali. Dove monti e con chi? Monto alle scudere della Malaspina Ornago, monto con Italo Cirocchi e Norma Paoli e Italo Cirocchi ci segue soprattutto da giù diciamo e invece Norma Paoli anche da giù però diciamo ti do una mano anche a cavallo. E sono veramente molto esperti e molto bravi. Italo urla tanto vero? Sì però è veramente bravo, molto esperto. Ok, prossimo appuntamento? Non lo so, penso non lo so perché dipende dal cavallo come va. Un po' di vacanza e poi gli italiani ci saranno? Eh sì, quello sì. Perfetto, grazie mille e complimenti. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.